Ben ritrovati, va avanti il progetto di inclusione sportiva inerente il mondo della vela. Ascoltiamo le parole di Adele Mattioli, presidente della Lega Navale di San Benedetto del Tronto e Andrea Traini del Leo Club Ascoli Piceno, Costantino Rozzi. Sì, il nostro progetto, fortunatamente, dallo varo dell'anno scorso, dell'ANSA 303, fatta a novembre, quest'anno siamo pronti a varare di nuovo questa imbarcazione per dare inizio a questa stagione. In effetti per noi è un fiore all'occhiello perché siamo riusciti attraverso la collaborazione di alcuni enti e associazioni ad acquistare questa imbarcazione. Adesso c'è in progetto una base nautica con tutte le attrezzature inerenti all'entrata in acqua di queste persone meno fortunate di noi che attraverso una gruetta, un pontile mobile, possono entrare in acqua e avere la possibilità di solcare le onde e di essere liberi nel vento. Liberi nel vento lo cito perché è stata l'associazione, il fiore all'occhiello nelle marche, forse anche in campo nazionale, che ha dato, vent'anni fa, inizio proprio ad aprire il mondo della disabilità verso il mare. Per cui noi siamo orgogliosi a San Metto del Tronto di mettere un piccolo semino e dare la possibilità e con tutta la voglia di crescere affinché questa base nautica veramente venga messa in campo così tutti i ragazzi possono avvicinarsi anche al mare perché il mare è senza limiti e senza barriere. Grazie. Noi ovviamente siamo stati fin da subito contenti di poter collaborare con la Lega Navale a questo progetto e ringrazio anche chi ha avviato questa iniziativa, i nostri soci Pietro Quince e Manuela Delfino e noi abbiamo portato a termine quello iniziato a loro alcuni anni fa. Ribadisco appunto con qui presente il Presidente della Lega Navale di voler continuare a lavorare con loro per tutto quello che è necessario inerente appunto all'attività in mare per questi ragazzi che possono aver bisogno.